di cosa mi devo pentire sinceramente mi sembrano delle domande veramente idiota comunque signori non mi pento alla domanda lo rifarei lo rifarei però con più violenza perché non basta cari telespettatori direi che con questa puntata chiudiamo le puntate estive e le chiudiamo alla grande perché abbiamo un tema secondo me di grande importanza un ospite di grande importanza che per queste trasmissioni rappresenta un gradito ritorno lo vedete il professor roberto segatori che adesso presentiamo ma nemmeno ci sarebbe bisogno lui è stato per molti anni per tantissimi anni ordinario eh alla università di Perugia direttore del dipartimento lui è un sociologo innanzitutto eh quindi è direttore del dipartimento presso sempre l'università di Perugia è stato poi per otto anni anche il presidente dell'associazione che raggruppa i ehm i professori universitari eh della eh sociologia ma della sociologia politica mi sembra no? Sì. Della sociologia politica quindi insomma è attivissimo eh sia sul piano regionale eh Umbro di Foligno sia sul piano nazionale è è molto arguto i suoi interventi lasciano sempre il segno eh quando leggo i suoi articoli infatti lo chiamo non lo chiamo sempre se no diventerebbe stucchevole però insomma la sono sempre molto eh stimola molto insomma anche la riflessione e il tema il tema eh eh questo a me ha colpito e non è l'unico caso lo prendo esempio ne citerò anche un altro eh io ho fatto come credo anche segatori l'amministratore pubblico eh tantissimi nel 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 mio caso era veramente la eh in epoca giurassica eh e mh fatto l'assessore vice sindaco un'esperienza di circa otto anni e c'era un certo modo di comportarsi anche un certo rispetto delle istituzioni cioè tu ti sentivi un membro di istituzione protempore cioè le istituzioni restano li dovevi servire con onore al massimo delle tue capacità poi tu eri destinato insomma eh siamo tutti protempore nella vita quindi e e c'era quindi un certo rispetto cioè cose che quelle che avvengono oggi e che citeremo erano assolutamente inimmaginabili mi riferisco al caso più recente atto avvenuto a Terni con quel parapiglia eh che peraltro è stato il caso più eclatante ma nei precedenti consigli comunali di Terni c'erano già stati dei degli accenni in questo senso col sindaco Banchè Banchè eh Bandecchi scusate che eh dopo aver detto al a un consigliere comunale che peraltro che era stato candidato sindaco anche lui che eh se con avesse continuato a ridere gli avrebbe avrebbe tolto tutti i denti si è avventato dice ha provato ad avventarsi contro un altro consigliere che è intervenuto in difesa appunto dell'offeso è stato placato una scena amata insomma una scena sudamericana se volete del peggiori stati sudamericani e e poi un altro ne vorrei citare meno ho visto che ha avuto meno rimbalzo è stato diciamo più fenomeno locale nel Lazio eh è praticamente di una riunione che c'è stata tra il sindaco di Civitavecchia e l'assessore al commercio con quelli che loro chiamano i mercatali che sarebbero gli ambulanti risultato finale assessore all'ospedale con braccio rotto siccome è anche lui un personaggio diciamo moderno via tra virgolette con capelli lunghi tatuato eccetera eh pare che qualcuno gli si sia di questi mercatali attaccato anche ai capelli qualcuno gli ha rotto un braccio il sindaco buon per lui se l'è cavata con una sedia che gli è stata tirata allora ho chiamato il professor Segatori perché ho detto ma le istituzioni che di per sé sono sacre e sono diciamo così un fattore che tutti anche gli economisti ritengono fondamentale per lo sviluppo senza istituzioni solide la Svizzera non aveva niente c'era le montagne non c'era la turizia non aveva niente era la Svizzera tutti gli stati sviluppati hanno istituzioni solide vederle sbeffeggiare in questo modo con scene mettetela voi da osteria da 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 bar malfrequentato eccetera o da circo come volete voi e beh è un segnale secondo me di degrado che va bene al di là dei casi due casi ma ne potremmo citare tanti altri perché ogni tanto escono sui giornali ehm i cittadini che arrivano in consiglio comunale lanciano monetine è venuto lo conosco perché è avvenuto un caso qualche anno fa proprio a Tarquinia come se fosse normale eh tutto ciò eh però dico dobbiamo andare un po' più in profondità che cosa c'è dietro tutto questo che sia malata non solo italiana pensate a caso Trump no che è una maleducazione lo sbeffeggiare le istituzioni continuamente quindi una malattia occidentale e penso che non ci sia meglio del professor Segatori che ci può dare qualche riflessione su su questo che a me preoccupa molto francamente ma io non credo che il disagio sia semplicemente dell'istituzione il grande disagio il vero problema sta nella società e rispetto a questi comporta atteggiamenti e comportamenti che sono arrivati a forme di aggressività anche fisica bisogna individuare le cause recenti e le cause remote le cause recenti eh dipendono dal superamento di due soglie la prima soglia riguarda il linguaggio e la comunicazione cioè da quando si è trasformato il lo spazio del della comunicazione con i social improvvisamente è avvenuto l'accreditamento dei linguaggi appresunti più schietti ma in realtà più volgari più diretti più eh senza freni più violenti senza freni eh faccio un esempio banale eh a Perugia c'è la giornale online Perugia Today ogni numero ospita uno due commenti politici poi c'è l'intervento dei lettori e al di là della diversità di opinioni che sono legittime è un vomitare di insulti quindi questa prima soglia il linguaggio la comunicazione che è passata accettato in nome di una presunta spiettezza eh la volgarità la violenza una cosa insopportabile questa è la prima soglia che si è superata questa soglia il superamento di questa soglia dall'altra parte è stata cavalcata anche da alcuni leader politici populisti eh nel senso noi abbiamo una tradizione dagli anni novanta a venire in avanti di leader populisti e in qualche modo eh gli ultimi due del 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 secolo nuovo sono stati Grillo prima che ha eh fatto transitare il Vaffa e poi ancora Salvini che ancora oggi in perversa eh rispetto a diciamo un escalation perché andando qui indietro ce l'ha avuta anche Berlusconi a conoscere Berlusconi però diciamo più contenute sì però Berlusconi Bossi erano tanti anche Renzi per certi versi però emblematicamente nel duemila eh è Grillo e Salvini soprattutto eh quindi questa soglia che è stata accettata dai politici che l'hanno voluta cavalcare la seconda soglia che è stata superata è quella del passaggio dal linguaggio all'aggressione fisica che abbiamo sperimentato con Trump che non accetta l'esito delle elezioni presidenziali e scatena i suoi sostenitori all'assalto del Campidoglio a Washington e il caso Bandecchi di cui stiamo parlando qui veramente c'è una specie di cortocircuito cioè nel senso eh hanno voluto cavalcare il populismo e non trovandosi in condizione di gestire ne sono risultati in qualche modo antesignani ma anche incastrati dentro mettendo veramente in pericolo non dico la democrazia ma un tipo di eh rispetto delle istituzioni di eh consuetudine a loro modo sacre ora le istituzioni si reggono come dice una lunga tradizione che va da Kelsen ma anche Bobbio su posizione opposta si reggono se c'è il consenso della gente cioè la gente con i propri atteggiamenti con i propri comportamenti che sostiene le istituzioni se i leader per primi cominciano a travalicare certi certe certe forme le istituzioni di siano entrare in crisi queste sono le cause recenti ripeto il populismo che nasce dalla una presunta democraticizzazione del linguaggio che in realtà in realtà è un superare la soglia del dell'organità però vediamo che spesso queste cose sono utilizzate da personaggi che arrivano proprio solleticando la la protesta manipolando poi però non vogliono caso Trump più andare via quando perdono e allora è colpa del deep state è colpa del solito Soros che me l'hanno fatto diventare simpatico di Bill Gates dei marziani non si sa però è questo e poi mi finisci come sono le cause più remote quello molto interessante volevo ascoltarti però c'è una cosa in più naturalmente questi giochi si possono fare più aumenta l'incertezza della gente rispetto alla propria sicurezza economica sociale culturale però l'incertezza l'insicurezza possono essere aumentata artificialmente allora questi leader buttano benzina sul fuoco dell'insicurezza il modo con cui prima che non era un problema per esempio Salvini ha buttato benzina sull'immigrazione e adesso che veramente forse è un problema reale se ne parla quasi di meno eh cioè aumentare l'insicurezza della gente la paura della gente che poi io la cavalco in maniera da da uomo che che interviene che fa giustizia e scusami se ti interrompo Brexit è il paradigma di questo sì sì hanno fatto un errore clamoroso di cui ormai sono evidenti però ci sono cascati anche un po' sono cascati con tutti i troll russi e forse anche americani però ecco lì mi ricordo leggevo allora che le persone molto anziane anche più sprovvedute eh ritenevano che restando nell'Europa le pensioni loro non eh sarebbero svanite non valevano sarebbero non vabbè questa è una riflessione poi ci sono le cause remote eh le apriamo poi magari interagiamo le cause remote eh consistono essenzialmente in questo nella crisi nella trasformazione dei corpi intermedi che costruivano la socializzazione civica il senso civico il civismo e la socializzazione politica delle persone cioè eh dagli anni cinquanta sessanta settanta ancora delle eh novecento c'era la parrocchia le sezioni dei partiti almeno i tre partiti maggiori che era l'ADC il PC il PSI eccetera in cui si faceva formazione al senso civico e alla politica nel senso che poi si riconosceva la necessità dei cursus onorum in politica cioè l'ultimo arrivato il bandecchi di turno non poteva fare politica se prima non aveva dimostrato con la propria esperienza la propria pratica eh l'abilità di amministratore pubblico non privato eh queste cose sono in trasformazione cioè eh giustamente prima si diceva eh degli anni ottanta e anch'io sono stato amministratore eh appunto l'ho detto di di amministratore e lì le 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 modalità erano essenzialmente due grande rispetto reciproco sia tra maggioranza e composizione sia una competizione in punta di fioretto cioè eh la vittoria o la sconfitta l'abilità di ai consisteva nelle argomentazioni più solide o meno solide per cui c'era anche il gusto della politica nel senso che la gente quella che per esempio aveva se vuoi meno titoli di istruzione eccetera si preparava a scrivere i discorsi arrivava preparato ci lavorava scuole di di crescita personale anche per tante volte mi chiedo magari conoscemi ricordo insomma delle persone che non avevano nessun livello di istruzione che pure frequentavano una sezione della dc del pc frequentavano le parrocchia anche sono stato certo certo e alla fine sono diventate proprio per cittadini perché riuscivano a a c'era stato tutto rialzo ma allora scusa però eh allora si deve dire in una eh c'è un detto popolare per star meglio qui giaccio allora noi abbiamo avuto negli anni novanta la democratizzazione io fui terrorizzato quando lessi diciamo così sembrava l'accesso adesso facciamo vota uno come te e c'era che ne so la mia faccia io dico è finita dico perché se uno vota uno come te evasori fiscali cose è uno che ecco volevo dire la rottura della crosta che si diceva che impediva al paese di respirare quella avvenuta insomma all'inizio degli anni anni novanta alla fine ci ci presenta il conto tutto intero pesantissimo no i corpi sociali distrutti poi almeno questi eh tutti i corpi sociali indeboliti non solo in Italia eh e poi sempre peggio cioè eh diceva oggi un bel commento che di Gramellini mi sembra su Corriere della sera eh che riporta questa escalation dice dopo Banchetti era proprio su Bandecchi dopo il Bandecchi è buio no ma il problema eh non si può risolvere solo riflettendo sui fattori tipo soggettivo volontario perché in realtà ci siamo trovati in un cambio di scenario totale che è dipesso dalla rivoluzione ai mezzi di comunicazione di Marsa eh dalla televisione unica televisione di Stato alle televisioni commerciali e Berlusconi apre improvvisamente le finestre e personalizza la politica più di quanto non facciano le istituzioni noi non abbiamo una repubblica presidenziale quindi la personalizzazione non sta ancora nelle istituzioni lo diventa perché la televisione Berlusconi fa la rivoluzione si impone personalizza la politica poi dopo poi arrivano i social e nei social si apre la mentre la televisione per lungo periodo è ancora una via cioè c'è chi parla e chi ascolta e chi fa il teleutente eh con i social vomitano tutti ognuno si alza la mattina ognuno si alza la mattina gli alzano con le rosure sue da qui e infatti casaleggio eh che che introduce una rivoluzione ma è però come come si diceva prima è Grillo che afferma eh lo slogan uno vale uno uno che poi non è vero perché lui valeva di più però voglio dire eh uno vale uno eh Conte non vale come gli altri detto questo eh quindi il passaggio non è solo un fatto di volontariato io cerco di eh ritornare alla buona educazione è un fatto che i fattori di contesto sono cambiati radicalmente per cui è molto complicato gestire tutto eh il circolo della il circolo della comunicazione non solo eh ultimamente si sta cercando di porre rimedio agli haters a tutti coloro che intervengono anche dall'estero anche dalla Russia a segnalare problemi per cui non solo era un c'era proprio una società con i troll che serviva ma non solo lui ma anche anche Salvini c'aveva quella che è stata definita tra virgolette la bestia per cui ogni volta che compare un giudizio critico su di me in mille mi sparano addosso per cui noi dobbiamo ancora irrobustirci rispetto a questa situazione e poi anche un'altra cosa eh si parlava di un mondo finito quello delle parrocchie perché anche le parrocchie sono in grande crisi eh le parrocchie sono in crisi anche per un fenomeno storico Voitivo aveva capito perfettamente che la comunicazione si risolveva sui mass media ma ha trascurato le parrocchie per cui lui poi la televisione si è mangiato lui perché c'era offerto in pasto nella sofferenza eccetera ma eh i partiti eh i partiti facevano le sezioni di partito i movimenti giovanili da quello che gli inglesi chiamano democratic mold cioè lo stampo democratico tu ti esercitavi a le regole della democrazia interna da un certo punto in poi dagli anni novanta io seguivo i lavori per esempio dello IARD che faceva dei rapporti è uno dei massimi istituti di ricerca sociologica sui giovani e scopre che i giovani escono dall'associazionismo politico e entrano nell'associazionismo sociale e le associazioni sociali esiste l'associazionismo sociale funziona da democratico e molde nel senso che noi ci raduniamo facciamo elezioni per leggere le cariche però c'è una specie si è aperta una specie di iato rispetto al sistema istituzionale politico dove lì contano gli avventurieri conta chi c'è i soldi cioè tra l'altro bandecchi eh sta cercando dopo dopo l'ultimo episodio su Terni non so con quanto credito di eh transitare per Foligno arrivare a Perugia eh chi è che determina poi le sorti di certi successi in successi politici la disponibilità finanziaria a a pagare la comunicazione per cui lui diciamo la verità Terni hanno questa brutta abitudine scusa dico la mia opinione ma arriva sempre con i soldi e si ricompera prima era Carini eh poi e poi alla fine sono arrivati i bandecchi Carini era anche un signore no non è che manipolava cosava si metteva d'accordo col sindaco il vescovo e c'è c'è se lo gestivano e però ci voleva sempre a Terni hanno sempre avuto bisogno non bastava il sindaco vescovo cioè ci voleva sempre qualcuno che arrivava eh l'uomo dei soldi non vale non vale non vale solo per Terni evitiamo sennò i ternari giustamente però io il Terni me l'ho vista sempre da questo punto di vista perché in altre città può essere stato diciamo periodicamente lì è permanente cioè ci puoi mettere l'orologio dopo bandecchi che arriverà si passano la voce dice guarda che a Terni se gli fai d'intinnare gli fai un po' di cose ti mettono la città in mano comunque vabbè questo però la storia se pensi al Perugia Calcio a Gaucci a Santo Padre però non hanno condizionato così tanto una città cioè alla fine no no diciamo nella loro cosa si hanno però alla fine non è che 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 la città si è consegnata e lì si sono consegnati a Carini eh mediate dall'istituzione si sono consegnati le hanno consegnate a Bandecchi a giugno scorso cioè nel ventidue gli hanno dato la cittadinanza onoraria voglio dire oggi vediamo quelle scene di uno che io mi rifiuterei perfino di incontrarlo perché cioè uno che perde la tese però insomma io vorrei fare faresti male perché un giornalista ma sì no ma lo dico vado a incontrarlo magari mi porto dietro pure io un bastone perché quella si vede che non è una persona che può perdere la testa da un momento all'altro ma lui gioca su questo tra l'altro mi chiedo ho sentito la sua dichiarazione adesso per entrare al caso Bandecchi ma non volevo limitarla a questo ovviamente che ha detto che lui lo rifarebbe perché anzi con più violenza perché quella non basta io insomma queste parole secondo me ci hanno anche un ricordo giudiziario ma infatti non può dire io lo rifarei con più violenza ma insomma c'è una segnalazione c'è una segnalazione un'inchiesta in corso quindi non so se hai visto io mi preoccupo perché buttare benzina così poi ci sono menti di ogni tipo mi ha colpito il corteo che si creò quando vinse proprio Bandecchi e già c'era scritto tutto la eh eh sta su youtube la gente che te lo possa tranquillamente trovare l'ho visto perché l'ho seguito insomma sembrava veramente una volta adesso non voglio non lo dico perché forse è anche esagerato però insomma hai visto i personaggi non sembrava di stare in una curva di stadio Bandecchi Bandecchi ma c'è nostra cosa eh per sempre Bandecchi di una gente saggitata del io ho detto proprio il populismo dimostrando la sua veste peggiore proprio era tutto scritto ed è scritto come scritto secondo me che non dura tutta la legislatura perché non è poi tenere questo stato di tensione continuo se o abbassano i toni tutti o lì eh consiglio comunale o si scioglie beh o di dichiarano tra loro non può andare avanti ma infatti la domanda è c'è o ci fa cioè eh è veramente così sì tutte e due ma un po' ci fa anche perché è di centro eh che il centro è stato sempre il luogo dove c'è di mediazione di moderazione di tutto perché si si sposta diciamo sì sì no dice lui dice lui da lì però le altre forze politiche soprattutto quelle di destra che c'erano il pallino in mano la sinistra il mancato accordo tra PD e 5 stelle gli hanno aperto un portone eh non è detto che lui non stia sperimentando eh facendo teatro per vedere fino a che punto posso spingermi per accreditarmi come uomo che eh nelle situazioni di emergenza interviene risolve eh è pericolosissimo sono d'accordo con te però eh sì è pericolosissimo anche perché hanno fatto bene secondo me a denunciarlo anche perché insomma qui è con un po' come su Facebook oggi se vai a un processo quello che su Facebook vale quasi come se l'ha scritto su un giornale cioè hanno cominciato a dare una stretta perché se no veramente uno che ha gli umori strani la mattina uno che che lì perde la testa vuole picchiare cioè bisogna anche la magistratura insomma le regole del gioco vanno soprattutto soprattutto che la magistratura procede più celermente e certo perché la magistratura sta intervenendo sempre in politica ma rischia di eh ingessare i processi mettere persone fuori gioco tenerli in gioco per i tempi lenti con cui interviene certo noi dimentichiamo che sulla piazza dell'Umbria abbiamo paralizzato Gian Piero Bocci Luca Barberini in attesa di un processo che non si sa che durerà a tempo indeterminato e sono ancora a primo grado credo no? Quindi quindi la giustizia deve essere più tempestiva no sul caso Bandecki per esempio sul caso Trump abbiamo scoperto che tutte le mosse che lui ha fatto in realtà erano già eh state progettate precostituite prima quindi questo presunto spontaneismo io ex paracadutista che faccio l'uomo forte che non mi faccio insultare adesso vengo ti butto giù tutti i denti eh non so se lui sta forzando la mano per vedere fino a che punto possa spingersi è chiaro che non non è possibile che si spinga oltre un livello in questo siamo totalmente d'accordo e su questo però il problema di nuovo da una parte lui ma da una parte i cittadini perché prima quando dicevamo cittadini che passavano attraverso corpi intermedi parrocchie partiti parteci passavano anche attraverso un filtro che si chiamava scuola che funzionava cioè la scuola e la famiglia ma la scuola funzionava e in qualche modo preparava persone criticamente attenti a quelle che succedeva l'attuale trascuratezza che c'è anche per problemi di fondi ma proprio da parte del governo di questo degli altri passati rispetto alla scuola sta creando eh tragedie di impreparazione culturale perché il senso civico nasce dalla conoscenza del passato del presente dei diversi strumenti che agitano la piazza bisogna essere capaci di ragionamenti critici e di conoscere ora più la conoscenza si si trova di fronte delle fonti che sono inquinate cioè alcune fonti sono attendibili l'altra metà sono sicuramente inquinate e non c'è un filtro che la scuola ha indotto in studenti che crescono o gli studenti abbandonano la scuola e quindi non sono capaci e più il problema c'è cioè nel senso che alla fine arriverà il bandecchi che se non lo ferma prima qualcuno la magistratura troverà i pazzarielli che gli vanno dietro e dicono è così che si fa quindi il problema è molto complesso perché va affrontato a partire dalle istituzioni che costruiscono senso civico e socializzazione politica in senso democratico quindi da questo punto di vista è molto complesso il fatto e gli insegnanti che si sentono sempre un po che si lamentano eh loro hanno una missione civile grandissima non parlo di quelli di università parlo di maestri elementari i media inferiore perché perché il vero problema se no noi veramente eh parliamo di giovani che toccano l'ampice del quotiente intellettivo a otto anni poi declinano e poi la scuola se non ha le vitamine giuste se non dà loro le vitamine giuste insomma rinunciano a missione prima c'era una scuola che funzionava fin dall'elementare l'elementare forse ancora funziona poi c'era la parroglia eh poi c'erano gruppi poi scout e poi c'erano i partiti e poi c'è adesso c'è una frantumazione quindi eh non stanno bene molte istituzioni non stanno bene la chiesa cattolica che sta messa male in giro in Umbria per esempio c'è uno spopolamento siamo governati da da vescovi che vengono da fuori dal Trentino dalla Sardegna su su Perugia e Terni che le parrocchie eh si chiudono eh Spoleto è passato a sedici a sette piedi cioè non è questa cosa è il segno di di una crisi del corpo intermedio più vicino ai cittadini per cui eh diciamo così è moltistrato il senso del disagio e la salvaguarda la democrazia deve essere sempre manottenuta noi siamo al ridosso dell'otto settembre che ci ricorda la svolta di ottant'anni fa ottant'anni fa ci fu la svolta fu l'armistizio fu la fine di eh dichiarata dell'Italia che apparteneva al regime fascista per diventare al fianco per mettere a fianco degli alleati e aprire la porta alla democrazia la democrazia che poi ha trovato un'ottima risoluzione della Costituzione che è entrata in vigore il primo gennaio del 48 ha bisogno di manutenzione costante e qui purtroppo la manutenzione la fanno in pochi e quando un personaggio come Bandecchi fa quella sceneggiata sta sicuramente tradendo lo spirito della Costituzione violandola se allora beh io avrei andrei avanti purtroppo il tempo diciamo proprio è agli sgoccioli però perché poi tra l'altro professore ha aperto anche altri scenari perché abbiamo parlato delle cause e abbiamo individuato le scelte e remote poi qualcosa bisognerà dire su qualche possibile rimedio nel senso almeno e questo magari lo dedichiamo a un altro appuntamento ovviamente certo perché vale la pena ma ripeto un po' la caratteristica di questa trasmissione non è che ci siamo messi a fare la crona a caso Bandecchi quello di Civitavecchia però abbiamo dovuto cercare insomma di andare più più a fondo perché quando c'è una malattia che ormai è manifesta quella è una febbre che ormai è a 39 deve andare a cercare le cause non è che basta l'aspirina che lì per lì si supera e speriamo di aver dato un contributo in questo senso e continueremo a darlo. Devo ringraziare davvero tanto il professor Roberto Roberto Segatori non ripeto tutti i titoli comunque guardate se andate su Wikipedia mettete Roberto Segatori lì c'è tutto ecco sistemiamola così. Professore ti devo ringraziare davvero tanto e spero di poterti di avere presto per non commentare ulteriori fatti ma cioè cercate di continuare a monitorare e stare attenti a quello che accade a cercare di capirne le ragioni profonde che ritengo che questo deve essere un servizio che va un po' ovviamente a tutti i cittadini che ci ascoltano e che ci vedono sulle strutture social che ormai Whatsapp eccetera che io poi uso molto ma anche diciamo così proprio ai decisori alla politica dobbiamo riflettere su queste cose perché se non è un drago che ci mangia tutti alla fine. Grazie Giuseppe alla prossima. Alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.